ciao a tutti ben ritrovati il mio avversario non ha un elo altissimo come nel precedente video però con 2330 adesso inizio a pescare a giocare sempre contro avversari e diciamo sempre più forti sempre più impegnativi probabilmente il software di ricesse non mi farà giocare con gente che abbia meno di 2200 punti o giù di lì ok d4 la tria mossa e lo ha giocato e6 quindi cavale f3 d5 adesso cerco di impostare quello che in tanti e tanti di voi giocano tanti alcuni mi hanno chiesto ok potresti fare un video sul sistema di londra e a tal proposito vi consiglio la video serie pubblicata lì e nel canale di matto scacco allora l'obiettivo del bianco è cercare di avere uno sviluppo facile senza pensare troppo cercare di impostare il proprio sviluppo e tutta la strategia del bianco gioca sul controllo di questa casa quando il nero attaccherà il pedone centrale non lo difendiamo con un pedone e dopodiché quello che devo fare alfiere d3 a rocco corto e poi con calma imposto il mio piano quindi l'alfiera in d3 e questo è uno degli sviluppi più frequenti che abbiamo da parte del bianco nel sistema di londra torre 8 vuole preparare la spinta in e5 poteva evitarla sicuramente sì posizionando io stesso un cavallo in e5 e invece diciamo che l'ho concesse alla spinta in e5 corrisponde sempre quanto vedrete adesso quindi io catturo una volta lo mi riprende probabilmente questo cambio sarà necessario e quindi la reazione con c c4 allora in questa posizione voglio diciamo dar noia e creare difficoltà su questo pedone d5 quindi il cavallo potremmo andare in f3 per liberare un po' di strada fire g4 fire g4 non so se precisa chiaramente f3 da scartare a priori perché indebolisce il punto e3 e però donna c2 mi sembra naturale come cosa potrebbe fare solitamente questa doppiatura corrisponde un attacco con i pezzi pesanti sulla colonna h la torre facilmente arriva in h5 però la donna per adesso per adesso un po' di difficoltà nei peggiori dei casi il bianco ha comunque cavallo f3 che anzi la mossa che gioco adesso do fastidio alla torre se mi cambia riprendo di pedone e la casa libera che si crea spostando il pedone da g2 in f3 la occupo con il re ok questa è la partita h4 h4 interessante penso che possa catturare però non voglio dare opportunità non voglio farlo giocare troppo e allora chiudo con g4 e questo pedone proverò a catturarlo con calma sposta il re passa la torre cattura il pedone non ho alcuna fretta non credo che sia stato il modo migliore per lui di affrontare questa posizione però aspetta a me dimostrare il perché arriva pedone in d4 pedone d4 penso che f4 sia molto interessante lo faccio indietreggiare ulteriormente anche torre d1 torre d1 furba se mi cattura alfiere scacco e nel frattempo ho migliorato la mia torre non credo ovviamente non dovrebbe catturare però chi può dirlo goblin 123 il nickname del mio avversario e un altro piano che mi viene in mente spingo f4 spingo g5 chiudo il mio lato di re perché poi voglio cercare di prendere spazi al centro dire la mia al centro della scacchiera chissà potrebbe essere una scelta e f4 f4 mi sembra promettente sì ok f4 la mando via c5 mando via al cavallo fatto su queste catture diciamo che cattura la torre g5 mando via il cavallo se il cavallo salta qui è un po a corto di spazio forse posso attaccarlo o chissà forse con la donna o con l'alfiere non saprei non saprei bene quale sia il modo migliore anche in h5 è soggetto a qualche attacco perché via e2 ad esempio se giocassi alfiere e2 e io quel cavallo e lo catturo alla prossima se lo difende lo elimino la tattica vuole che lui possa giocare pedone per e3 perché se io catturo continua con la forchetta però se io catturo prima in e3 lui avrà questa mossa ok allora forse devo farmi fare la forchetta sono stato un po impreciso perché ho intuito l'idea ma adesso mi sono mi sono fatto sorprendere in parte perché se pedone per e3 comunque sia perdo il pedone va bene questo bisogna catturarla e dopo i due penso se sacrificare la la qualità quindi mi faccio catturare una torre per avere un po di attacco magari sulle case chiare e oppure stare fermo ad esempio una contromossa potrebbe essere g6 e salfiere per e2 torre per e2 ok donna f5 continua l'attacco forse cerco l'approccio più solido sei pedoni sulla scacchiera però questo pedone lascerà la scacchiera molto presto così come i pedoni b b ea e qual è il compromesso il compromesso che io voglio giocare per l'attività voglio giocare torre d7 giocare pedone g6 poi giocare per il matto e quindi lo deve fare attenzione e nell'accontentarsi del materiale torre d7 è un buon proposito per impostare un attacco quindi torre d7 pedone g6 anche pedone g6 subito va bene lui va per il materiale io vado per le minacce di matto ok su questa forse ho g6 oppure il semplice raddoppio se io raddoppio lui cambia poi avrà scacco e il matto meno da lui e non è quello che vogliamo e allora la mantengo in gioco 15 secondi per lui però stiamo giocando con l'incremento ogni mossa che facciamo ci saranno due secondi e ok ha giocato b6 torre per a7 senza pensare molto almeno mantengo una parità di materiale che in realtà mi interessa relativamente e quindi andiamo la caccia a questo pedone pedone h annunciavo prima che doveva essere uno e pedoni che dovrebbe lasciare la scacchiera ok donne 2 vuole cambiare se cambia vuol dire che però io non voglio cambiare ok non cambio vediamo se c'è qualche minaccia g6 probabilmente vince g6 minaccia donna h7 e da lontano minaccia questa torre ok oppure il matto del corridoio così deve difendere con la donna quel punto catturo ok partita interessante non è stato il più bel sistema di londra che possiate vedere e però ci sono state delle idee interessanti c'è sempre un momento in cui un giocatore potrebbe giocare per il materiale e l'altro da parte sua gioca per l'attacco e in questo momento è giocato per l'attacco dall'inizio alla fine grazie 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 a tutti.